E allora, pomeriggio di... anzi, sera di Premier League, turno infrasettimanale, oggi pomeriggio ho commentato il Manchester City di ieri sera e adesso vado a parlarvi di tutte le gare della Premier League di quest'oggi ragazzi. È vero, ci sono stati anche i match della Coppa Italia, c'è stato il Bologna che ha perso 4-0 a Udine contro l'Udinese, il Lecce che ha perso 5-1 con la spalla e poi gioverì c'è stata un'altra partita, il Perugia che a sorpresa ha battuto il Sassuolo e lo ha eliminato. Ecco, questa è stata un po' la Coppa Italia di oggi, le partite... c'è Sheeran dietro... SHEERAN! Le partite del giorno della Coppa Italia, queste cose sono state le partite del giorno della Coppa Italia. Ebbene, va bene così, ci siamo divertiti, ma mi sono divertito più a seguire la Premier, questa è la mia verità. Il Liverpool sta giocando in questo momento contro l'Everton, manca tipo, siamo in pieno recupero, quindi insomma inizio a fare il video come sempre, perché la mia destra vi metto OneFootball per dare un'occhiata alla classifica, per guardare i risultati, perché come sempre è l'app più completa, se vi serve appunto una news la trovate su OneFootball, vi lascio il link in descrizione, ci cliccate, andate direttamente a scaricarla, perché potrebbe fare il caso vostro se amate questo sport. E allora, il Liverpool sta giocando il derby contro l'Everton, ve l'ho detto, ve l'ho anticipato... Sheeran scendi tipo subito... Ve l'ho anticipato che sarebbe stata una partita molto, molto, molto pazza, molto equilibrata, molto interessante. Il Liverpool affronta l'Everton, sta vincendo 5-2 per farvi capire, ma è stata comunque una partita molto divertente. Il Liverpool che va avanti per 2-0 grazie alle marcature di Origi e di Shaqiri, il 2-1 arriva dai piedi di Kane, e poi appunto 3-1 di Origi, ancora di Origi, il solito Origi, Mané, Richarlison, anzi Richarlison, Mané nell'ordine, e poi va in Aldo a chiudere la gara. Un 5-2 che secondo me è strameritato, il Liverpool gioca bene, il Liverpool è cattivo, il Liverpool riesce sempre comunque a far quadrare i conti, anche oggi comunque l'Everton se la gioca, perché questo non si può negare, comunque il Liverpool era una squadra che fino ad adesso non è che avesse preso così tanti gol in realtà, anzi vado a controllare, ne aveva presi finora 11, va a prenderne quindi 14, il Leicester resta comunque una miglior difesa, ma subito dopo c'è lo Sheffield e poi appunto questo Liverpool che sta macinando qualunque cosa gli capiti a tiro. Vittoria importante del Liverpool che quindi va a rispondere alla vittoria del Leicester di stasera, e il Leicester che continua a non prendere gol, il Leicester che è forte e fortunato, che la sblocca grazie al calcio di rigore di Jamie Vardy, maturato nel secondo tempo, non so sinceramente senza il calcio di rigore come avrebbe potuto sbloccarla, perché era una gara veramente molto difficile, diciamo anche che il Watford si chiudeva molto bene, Watford ultimo in classifica aveva bisogno di sperato di fare punti, ragazzi il Liverpool, sì il Liverpool, il Leicester quest'anno è una bella squadra, il Leicester quest'anno il Leicester con Rodgers inizia a far vedere qualcosa di finalmente di interessante, basti pensare appunto che sta facendo molti più punti di quanti fatti da Claudio Ranieri appunto quando il Leicester alzò al cielo quello storico scudetto, quella storica Premier League. Vuoi anche che poi al 96esimo come sempre arriva Madison, la butta dentro, il Leicester che quest'anno ha fatto un sacco di conne in recupero, la partita comunque era già su binari ben definiti, sull'1-0 per il Leicester. Che vi dirò? Vi dirò, quest'anno mi interessa particolarmente, lo sto seguendo da vicino, lo sto seguendo sempre più da vicino, tra l'altro ormai è sentenza che quando si giochi a Leicester vince il Leicester, quando si gioca in casa del Watford vince il Watford, quindi vabbè succede sempre questa cosa, vince ancora una volta il Leicester e io vi dico ragazzi che settimana prossima comunque ci sarà una gara molto interessante perché per chi non lo sapesse il Leicester va in casa della Stonevilla, la Stonevilla che ogni volta che affronto una big o quasi sempre dimostra comunque di potergli dare filo da torcere. Mi viene ad esempio in mente il match di stasera in cui la Stonevilla perde, è vero che perde, ma contro un Chelsea che ha ancora bisogno delle proprie stelle, che ha ancora bisogno di uno sforzo immane, che ha ancora bisogno di rischiare qualcosa per poi avere quella botta definitiva che gli permette poi effettivamente di vincere la gara. Per il Chelsea che vince 2-1 segna i soliti Abram e Mount, ormai gioiellini, è già nel giro della nazionale inglese che al prossimo europeo saranno molto interessanti da seguire, però di conseguenza sono comunque due giocatori che sono più che interessanti e quindi insomma io questo Chelsea me lo seguo sempre ben volentieri, di tanti giovani, da che parla a Rizzabalaga, passando per lo stesso James e ancora oggi non giocava ma Tomori è molto interessante, lo stesso Mount, Abram, Pulisic che già sta un po' sull'onda di Hazard, poi ovviamente ce ne passano di acqua sotto i ponti per Pulisic per prendere Hazard, però già qualcosina si sta facendo vedere, è come se non bastasse ancora Uzzon Odoi che comunque secondo me è molto interessante come calciatore, il Chelsea c'è una bella squadra, il Chelsea di Frank Lampard fatto da giovani molto interessanti, la maggior parte di questi che appunto faranno parte, penso, suppongo, 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 vabbè, della spedizione dell'Inghilterra ai prossimi europei, quindi nel senso questo Chelsea è più che interessante. La Ston Villa poi ad onore del vero comunque regge abbastanza l'urto, l'1-0 di Abram trova risposta nel gol del solito Treseguet, dell'egiziano Treseguet, che è egiziano Treseguet, mi sembra fosse egiziano, che comunque bene o male se la cava sempre, che comunque quei golletti suoi li fa sempre, e poi la rete di Mount sull'assist, manco che ve lo dico a fa, manco ve lo dico, del solito Abram. Questo Chelsea mi incuriosisce, mi incuriosisce, vince, vincono tutte le prime, ieri aveva vinto il Manchester City per 1-4 in casa del Barnley, vince anche il Wolverhampton e vince 2-0 contro il West Ham, ragazzi, con i gol di Dendonker e finalmente di Patrick Cutrone, che si fa vedere, che è finito un po' fuori dalla rotazione, perché poi Cutrone è entrato anche oggi a 6 minuti dalla fine, poi fa il 2-0 e va bene, cioè più male che tocca lo butta dentro, però ragazzi, è un Wolverhampton che è partito malissimo e che poi gara dopo gara ha comunque preso consapevolezza nei propri mezzi, non a caso in questo momento il Wolverhampton è quinto in classifica, sì che dalla Champions, sì che, no, sì che dalla zona Champions dista ancora 6 punti, che sono un'enormità, però comunque è lì, è quinto in classifica, è sopra il Tottenham e sopra il Manchester United. A proposito di Tottenham e di Manchester United, due squadre che si affrontavano questa sera nel big match della giornata. Manchester United che arrivava con l'obbligo di dover vincere, addirittura oggi avevo letto un articolo che diceva che Solskjaer, qualora avesse perso i prossimi due match, sarebbe stato esonerato, dopo ho detto due match, perdo i prossimi due match, vengo esonerato, i prossimi due match erano contro il Tottenham e contro il Manchester City, quindi Solskjaer aveva tutte le possibilità a propria disposizione per essere esonerato, entrano due carri difficilissime, io penso che un allenatore del Manchester United avrebbe firmato comunque per fare due pareggi, ecco, questo non è avvenuto perché oggi il Manchester United scende in campo cattivo, scende in campo cazzuto contro José Mourinho, ragazzi l'ex di turno, sarà perché i giocatori erano molto indevalati con Mourinho, ve lo ricorderete, poi tutto il problema l'hanno fatto cacciare, poi hanno cominciato a correre, ok, quindi nel senso manco a dire che, però era un Tottenham che comunque adesso deve ricominciare a rodare, che il Tottenham non può fermarsi mai, è un Tottenham che deve vincere, è un Tottenham che in realtà va sotto per il gol di Rashford e poi pareggia con Dele Alli, non so se avete seguito Dele Alli che ha detto che lui è già vecchio, lui si sente già vecchio, si sente arrivato, gna fa più, i carichi lavorano troppo pesanti, il fisico non li regge, non lo so, fate voi, fate voi, però insomma mi sembra abbastanza esagerato e il calcio del gol di Rashford indirizza la gara verso il Manchester United che vincendo, tra l'altro, riprende enormemente le altre, ok, la Champions gli sta ancora un'enormità, però quantomeno si riposiziona in zona Europa, che poi in Inghilterra ci siano due coppe, una e l'altra, portino in Europa, vuol dire anche che solo la quinta va direttamente in Europa League, no, va ai preliminari addirittura in Europa League, però va detto anche ai ragazzi che difficilmente le due coppe non saranno vinte da una big, meno che poi non sia lo stesso United, meno che non sia un Tottenham e quindi insomma, diciamo che il Manchester United si trova, secondo me, in una situazione più che favorevole, tra l'altro è appena finito il Liverpool per 5 a 2, quindi nel senso è finita, se siete interessati, è finita. Vince tra l'altro anche il Southampton, vince 2 a 1 contro il Norwich, segna il solito Pucchi, 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 però il Southampton ragazzi dimostra sul campo di essere forse più forte per il fattore di casa, ok? Sono due squadre che comunque bene o male si giocano la salvezza, Southampton che è stata fino ad adesso intricata nella lotta a retrocessione, manda l'Everton in questo momento che ha perso il derby con il Liverpool, però il Southampton secondo me addirittura è più scarso dell'Everton, quindi insomma, Southampton al Norwich era una gara totalmente alla pari, totalmente lotta salvezza, scontro salvezza e quindi ci sta che appunto il Southampton abbia vinto, per il Norwich sono tre punti persi fondamentali perché in questo momento è staccato dallo stesso Southampton di 4 punti che appunto traccia la linea salvezza, tra l'altro settimana prossima, tra l'altro settimana prossima il Norwich giocherà in casa contro lo Sheffield United, anche lì per quello che vogliamo dire comunque sarà un dentro fuori e il Norwich sarà costretto a vincere, mentre il Southampton, me lo sono perso non lo trovo più, Southampton andrà in casa del Newcastle e anche là dite quello che vi pare, però il Newcastle comunque qualche punto lo sta macinando per la salvezza, però qualcosina in più assolutamente dovrà fare. Io sto a leggervi rapidamente la classifica, Liverpool prima a 43, poi c'è una pista, Leicester a 35, City a 32, Chelsea a 29, Wolverhampton 23, United 21 eccetera eccetera eccetera. La cosa che mi incuriosisce di più riguardo la settimana prossima perché c'è City United, quindi il City può perdere ulteriori punti e il Leicester va a giocare in casa della Stonville, quindi potrebbe anche vincere. Noi ovviamente l'appuntamento lo rimandiamo a domani perché ci sarà Arsenal-Brighton, ci sarà la seconda di Ljungberg dopo il pareggio di settimana scorsa in casa del piccolo Norwich che non va assolutamente bene. Vi ricordo che oggi è uscito il mio podcast in cui abbiamo appunto parlato di tante cose, tra cui di Emre Can che ha tirato il pallone in curva su una faccia e ha rotto occhiali, quindi mi raccomando passate su Secret Podcast Calcio. Grazie per aver visto questo video, iscrivetevi al canale, buonasera all'allenio come sempre, per questo è tutto qua, ci vediamo ad un prossimo video. Ciao raga!